Noi romani siamo tanto bravi a dire buono come il pane, però il pane è la prima cosa che buttiamo sapete che vengono buttate 10 tonnellate di pane a settimana? Sono tante 10 tonnellate pensa che panzanella che potremmo fare con 10 tonnellate di pane tutte le più buone ricette d'italia sono fatte col pane vecchio i knedeli in alto adige, la panzanella a Roma, la pappa col pomodoro a Firenze e noi lo buttiamo e invece c'è questo bellissimo progetto delle agli di Roma che si chiama il pane a chi serve, non riescono a recuperare un po' di questo pane perché è un lavoro molto faticoso una tonnellata a settimana per darlo al 4% della popolazione romana che vive sotto a livello della povertà e non hanno un pasto adeguato al giorno insomma se c'è una cosa che proprio ha un valore è il pane allora noi insegniamo ai nostri figli a chiunque qual è il valore del cibo che noi buttiamo e aiutiamo questo progetto, veramente dai, ciao!